È stato un anno sicuramente molto fruttuoso. In una prima parte dell'anno abbiamo cercato di capire quali fossero le difficoltà del settore per cercare poi di mettere a sistema le risorse che copiose, ovviamente purtroppo grazie al Covid, sono arrivate dallo Stato e che quindi hanno permesso di integrare le risorse comunali. Quando parliamo di risorse riusciamo a quantificare una cifra? Allora, l'anno scorso alla fine quando ci siamo insediati, quindi molto rapidamente, abbiamo cercato di impegnare circa un 700 mila euro di risorse. Quest'anno invece, sempre un po' correndo a causa dell'approvazione un po' tardiva del bilancio previsionale, abbiamo comunque impegnato nel giro di pochissimo tempo, con uno sforzo immane da parte dell'amministrazione, circa un milione di euro che quindi sono state molto utili non soltanto per ristorare i cittadini attraverso buoni spesa e buoni alimentari ma anche proprio per strutturare iniziative anche più durature, quindi di più lunga gettata nel corso anche dell'anno prossimo. Poi abbiamo aperto, attivato il pronto intervento sociale in una prima sperimentazione all'inizio dell'anno. Poi tante cose stiamo ristrutturando, aree gioco, le ludoteche, soprattutto sulla parte alta della città stiamo cercando di aprire, quindi abbiamo già risorse destinate, stiamo progettando l'apertura di una centro famiglia che sia anche una ludoteca e anche un centro giochi, quindi dedicato ai bambini 18-24 mesi in collaborazione con l'assessorato all'istruzione, nelle more dell'attivazione dei nidi per dare subito risposta ai cittadini proprio nell'ex asilo di Viala Mendola. Abbiamo dato grandissima importanza alla tutela del sociale rappresentato dalle persone vulnerabili, da quello strato sociale di persone vulnerabili che non sono solo vulnerabili da un punto di vista fisico o diciamo reddituale, ma anche a tutti coloro che con famiglie numerose, con bambini piccoli hanno mostrato, soprattutto in questo momento di pandemia, tutta la fragilità e la vulnerabilità dell'esistenza sociale nelle nostre città.